Neanche il tempo di dire ciao ciao a Gattuso che De Laurentiis secondo il Corriere ma secondo praticamente tutti quanti i giornali ha già scelto il nuovo tecnico, si tratta di Coincesao, ex allenatore, in questo momento ancora tecnicamente allenatore del Porto. Mi raccomando ragazzi prima di tutto iscrivetevi, lasciate un bel like e commentate con la vostra opinione se vi piace, se vi fa schifo, se è un fenomeno, se è così e così, se volete aspettare a guardarlo mi raccomando scrivete quello che vi pare sia sull'addio di Gattuso sia sull'arrivo di Coincesao al Napoli qui sotto nei commenti. Comunque a me dispiace per Gattuso perché secondo me la stagione fatta non è stata negativa però a mio avviso non l'hanno mandato via solo per il quinto posto, per me con la Champions senza per quanto riguarda l'esito il destino di Gattuso era uguale, l'hanno mandato via per me piuttosto per degli screzi, per delle litigate, per dei divebbi con i Laurentiis e con l'ambiente che erano praticamente impossibili da ricucire quindi il divorzio era inevitabile. Per quanto riguarda invece Coincesao, ve lo dico subito, a me non fa impazzire e secondo me si rischia di guardare, di vedere in Italia un Fonseca 2.0 anche se il modo di giocare di Coincesao e di Fonseca è totalmente diverso, sono praticamente agli opposti, agli antipodi. Coincesao è uno che non sceglie quasi mai di impostare dal basso, palla lunga ma rega, ma rega inventa di qualcosa e basta, questo è in breve, molto molto breve il gioco di Coincesao. Coincesao poi comunque, a parte gli scherzi, è un gioco molto molto più raffinato. Coincesao ha delle caratteristiche che anche se non mi piace come tecnico, però io gli riconosco, sono molto importanti. Uno, il fatto di essere camaleontico, il fatto di sapersi adattare bene a ogni circostanza, a ogni avversario. Coincesao non è un Sari, non è un integralista, non è uno solo 4-3-3, è uno che si sa adattare molto molto bene, o gioca a 3 o gioca a 4. Comunque sa vedere bene le partite, sa cambiare bene modulo anche a gara in corso, e comunque lo ha dimostrato. Ha giocato a 3 colziti per esempio, ha giocato qualche volta col 4-4-2, spesso col 4-3-3, però comunque non è uno che gioca solo con un modulo e basta, è quello, quella è la verità assoluta e basta. È uno che cambia molto spesso in base all'avversario, non cambia a casaccio, cambia in base a chi si trova di fronte, e questa è una caratteristica molto importante. Poi come detto, gioca molto molto spesso, fa la lunga, e per quanto riguarda i difensori devono essere bravi anche a impostare, non solo solo i difensori che, basta, devono dare i calci, anche se Pepe, uno pensa il contrario perché Pepe è praticamente un macellaio, però non è il difensore che deve solo minare, deve solo difendere, deve anche avere intelligenza tattica e saper guardare avanti, nel vero senso della parola, deve sapere lanciare bene per gli attaccanti, per gli esterni. Anche gli esterni sono molto importanti e si richiede agli esterni, per quanto riguarda il gioco di Coincesao, una grande preparazione fisica, devono essere brave anche a sacrificarsi indietro, non sono tersini, non sono esterni di centrocampo, col 4-3 sempre, però si devono saper sacrificare molto molto bene, comunque devono saper giocare anche un po' più indietro. Però ragazzi, ripeto, non mi piace tanto Coincesao, sia a livello umano, lo dico francamente, non mi è simpatico per niente, però anche a livello tecnico e tattico non lo vedo come uno da Napoli, per me Spalletti sarebbe stato il top, Allegra ancora di più, ma anche Spalletti sarebbe stato tantissima roba per il Napoli, così come per la Roma, così come per la Juve, Spalletti per me è un tecnico vincente, o comunque un tecnico che con la squadra che ha sa tirare fuori il meglio, valorizzando anche molti giocatori. E per la rosa del Napoli, Spalletti secondo me sarebbe stato il top 4-2-3-1 e si vola se c'era Spalletti. Con Coincesao invece ragazzi per me la questione è diversa, non lo vedo molto bene e secondo me rischia di diventare un Fonseca 2.0, anche se come detto Fonseca gioca spesso palla a terra, costruzione dal basso a differenza di Coincesao, però io vedo molte similitudini, è vero, è anche vero che Coincesao ha giocato da noi, ha giocato con l'Inter, ha giocato col Parma, ha giocato con la Lazio, quindi l'ambiente Italia, la Serie A, la conosce bene, però io non vedo assolutamente un passo in avanti del Napoli, anzi io rispetto a Gattuso vedo pure un passo indietro e io quest'anno il Napoli, lo sapete, l'ho stimato tantissimo, così come l'ho stimato fino all'ultimo istante Gattuso come tecnico del Napoli. però ragazzi per me questo progetto non è migliore di quello fatto con Gattuso, anzi secondo me il Napoli dopo aver preso Ancelotti che sulla carta era un fenomeno, e lo è, però comunque al Napoli non è andato bene, dopo aver preso come traghettatore e poi come allenatore di fatto per un anno e mezzo Gattuso, per me il Napoli adesso fa un bel passo indietro ricominciando tutto quanto da capo, il mercato dovrà essere diverso e io ragazzi non so bene il ruolo di insegne perché sì, se si gioca col 4-3 insegne è alla grande, va benissimo, però se si passa al 4-4-2 insegne come esterno di centrocampo non è che ce lo veda molto bene, anche Ventura ci ha provato e non è andato bene, per non parlare del 3-5-2 ragazzi come punta non ce lo vedo per niente, ancor di meno come esterno di centrocampo che è praticamente un terzino nel 3-5-2, quindi non lo so, dovrà essere chiarita anche la posizione di insegne, però adesso invito voi a farmi sapere che ne pensate dell'arrivo di Coinsesau a Napoli, ex tecnico del Porto che quest'anno è bene ricordarlo, ha cacciato fuori la Juve dalla Champions, però ha pure fatto malissimo, il campionato perdendo in favore dello Sporting è molto ma molto meno attrezzato a livello tecnico senza alcun dubbio, quindi iscrivetevi, mi raccomando, commentate con la vostra opinione e lasciate un bel mi piace, ciao a tutti, ciao ciao!